O Dio che abiti una luce inaccessibile e ci hai amato di così grande amore da renderti visibile nel Cristo, volgi lo sguardo ai Tuoi fedeli che ritraggono in questo presepio l'umanità del Tuo Figlio e il parto della Vergine e fa che siano configurati a Lui che venerano in questa effigie. Per Cristo nostro Signore. Amen. Stamattina dovevano essere presenti i figli dell'artista Guitini, di cercare, però poi immaginate che in questo tempo si sono aperte le cataratte del cielo, quindi cercano il Dio Universale e quindi stamattina non sono partiti per venire, si scusano, però ci sono vicini almeno spiritualmente. dobbiamo rendere questo Natale più lieto possibile. La Pasqua ci è passata quest'anno, non l'abbiamo proprio potuto festeggiare per niente perché stavamo chiusi in casa, però almeno il Natale, per quanto è possibile, nel rispetto delle norme, lo vogliamo rendere più lieto possibile. Penso che anche questo è l'intento per cui la nostra città è così ben addorbata, così ben illuminata e anche questo segno del presente serve proprio a questo, a renderci contenti, un po' come dicevo, anche nell'Omeria, della presenza del Signore Gesù che comunque è in mezzo a noi. Allora, appena scenderete, voi troverete sulla sinistra alcuni personaggi minori, sono due personaggi anche proprio fisicamente molto piccoli, che fanno parte del contesto. Gesù è venuto in mezzo alla gente di tutto il mondo, in mezzo alla realtà, in mezzo alla quotidianità. E quei personaggi piccoli, laggiù in fondo, molto marginali, ci dicono che Gesù è in mezzo a noi, proprio in mezzo al mondo. Anche vedrete in mezzo al mondo di quelli che non si interessano nella sua nascita. Poi, sempre sulla sinistra, ma sul basolato romano, sono stati posti i magi, tre grandi statue dei magi, le quali sono in cammino, stanno camminando verso la grotta, perché chiaramente l'Evifania è ancora molto lontana, e si appressano ad andare a onorare il Signore con la vita della stela, come ci racconta il Vangelo di Luca. Poi, più al centro della cripta, quasi vicino alla tomba di Santa Capito, c'è un grande pastore, vedrete che è una stela altissima, credo che sia alta due petri, un grande pastore che governa le pecore che stanno un po' più avanti, le quali tra l'altro stanno mangiando, il pastore chiaramente ricorda il fatto che sempre il Vangelo di Luca, al capitolo 9, ci spiega che quando Gesù è nato, i primi all'adoramolo sono stati i pastori. E poi, nella vasca, che sta quasi sotto l'altare maggiore, in quello spazio che gli archeologi ritengono sia una vasca, è ambientata la natività. Anche la natività ha tutti i suoi significati. Ci sono gli animali, che il Vangelo porta a essere presenti anche nella tradizione, soprattutto Francescana ci sono, il bue e l'asino, tra l'altro vedrete che l'asino è gigantesco, è enorme. E poi c'è San Giuseppe, che abbiamo messo un po' sul retro, un po' sul fondo, non proprio accanto alla natività. Perché? Perché sappiamo molto bene che anche fisicamente Giuseppe non ha contribuito alla nascita di Gesù, ma la sua figura è di protezione. Sta lì, in un angolo, presente, anche perché l'immagine è molto bella, però non è lui che ha dato il suo contributo perché Gesù venisse nel mondo. E poi, invece, al centro c'è il bambino e sua madre, proprio come l'hanno visto i pastori e proprio come l'hanno visto anche i magi. Voi sapete che all'inizio della storia della Chiesa, fino almeno al V secolo, tutti i padri della Chiesa, cioè i Vescovi che hanno insegnato e che hanno parlato dell'evento cristiano, hanno insegnato i cristiani a credere nel Signore, non hanno parlato di nascita di Gesù, di Natale, come lo chiamiamolo oggi, il Natale di Gesù, cioè la nascita di Gesù, ma hanno parlato di un parto della via viciniera, per sottolineare come la Madonna sia essenziale nell'evento che stiamo celebrando e che celebriamo a Natale. È il parto della Vergine. Ecco perché l'immagine di Maria, che tra l'altro sotto è molto, molto bella, guardate, i lineamenti del porto sono bellissimi, è accanto al bambino, che è il centro chiaramente ridotto, e è lei stessa il centro, insieme al bambino, della scena della Natività. Noi celebriamo il parto della Vergine. E poi, guardando la Natività, sulla destra troverete un grande angelo, quasi vicino al pastore, il quale ci ricorda anche qui il fatto che Luca, nel secondo capitolo del suo Vangelo, ci dice che poi a un certo punto gli angeli hanno cantato sulla grotta di Bettenegge il gloria.